e questa è la crociami ma io non sto capendo niente e spiegami, spiegami papà, questo giovanotto è il mio fidanzato e non resta fuori voi siete il suo fidanzato e poi mi vado ad andare dentro a bagno con la mia figlia ma non ce la capo, ti sei rubato il telefono, non ce la capo ma no papà, ma che dici? è il mio figlio, perché? e lo ammette pure, che faccia tosta ma che già fa? ma come che la vita fa? ma voi siete anche un cantino male a tuo padre voi lo state pensando, è vero che lo state pensando ditemelo che lo state pensando voi non è la vecchia, è vero che lo state pensando lo state pensando? lo state pensando? ma non è vero che io papà certo, sì, non mi interrompe ogni minuto mamma parla a me eh, voi siete invidiosi perché hai una bella voce si, per vendere le patate hai buttato un po' di roba miscata adesso una volta che lo state facendo la mia figlia tiеныi quando si va a prendere le patate ma non ci sordi più ma è contento che dovresti sottimitare i bottigli perché? e non Mariu e scusate tanto a prossima volta ci stiamo giocciò a costa ma voi venite un po' ma che morti fanno te la hai già sempre ritenisti sono tutto mareuola. E quale è il problema? Non so degno di te, non ti merito più, tavolino non so che. Stai andando pure, voglio ecchi di fermi giù a te. Non sapevo, sei scassato lì da votare la patrice. Papà, sono Mustafà. Mustafà? Savare? Mustafà. Mamma mia, mamma mia, non faccio! Stavo a stanno la processione, ho fatto il buon amico da te! Ma ecco qua, tutto risolto, ho trovato il tubo che perdeva. Vammelo con me! Sì, tanto, sembra merdi, ecci! Oh, la affernuta, una bo...